Un'atmosfera unica, magica, rilassante e suggestiva, candele, fular colorati, contatto con la natura, risveglio serale, danza e meditazione con la luna. Tutto questo è accaduto ieri sera al Parco Urbano di Belpasso. L'Associazione Andromeda ha presentato per la prima volta questo evento alla cittadinanza patrocinato dal Comune di Belpasso ad intrattenere i presenti l'insegnante di danze olistiche ed orientali Francesca Di Raimondo insieme ai ragazzi dell'Associazione No Profit Verde Basico a cui è stata affidata la gestione del parco. La serata è stata scandita nei seguenti momenti saluto e preparazione alla connessione con musica 432 Hz, risveglio dei chakra e ginnastica posturale. Brec presso il chioschetto a cura di verde basico con tisane fredde e smoothies ed infine danza sagra con saluto finale alla luna. Questo servizio offerto da Ottica Mannino, via Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenze e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista gratuito. E chiedi il coupon sulla WhatsApp Line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel Cuore Storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale contattateci al 338 37 922 71. Per la vostra comunicazione e più pénale contattateci al 348 21. Per la vostra comunicazione e più vomitatendeci al 349 21. Il Theo Moving, le go...